Allora, vediamo qui cosa cavolo ho da ritoccare, vediamo, ah, il pavimento. Mi trovo seduto su degli scalini nel tempietto di San Rocco, che sarebbe la costruzione pentagonale in mezzo al cortile della Molefa Vitelliana, e non c'è nessuno, allora, dove l'ho rimasto, ah, le travatture dei gradini, già è vero, sì, cavolo, anche se al corso c'è tanta gente, qui sono indisturbato, strano, qui tutto vuoto, l'ho corso tutto incredibilmente pieno, e non ci si cammina, ti fanno sentire come uno che ha il nervo sciatico o l'artrosi galoppante millenaria, porca miseria.